Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Segui La7 anche sulla base del corteo di Roma il 7 gennaio, ma sul serio pensate che torni il fascismo? Non è che torni il fascismo, ma ci sono in questo clima nuovo dei rigurgiti che devono essere controllati, che sono pericolosi, che sono insidiosi e che devono preoccupare al punto di non dare mai il minimo di copertura a queste cose e anche gestirne la prevenzione quando è il caso che è la repressione. Ora adesso in Europa si discute, ci saranno al centro le nostre questioni e bisogna dire con amarezza che stiamo dando l'occasione per un'ulteriore fase di antipatia e di isolamento del nostro paese. Possono succedere anche queste cose, perché alcune cose succedono anche in Germania, ma in Germania se alzi il braccio ti arrestano ragazzi. E la politica deve farsi sentire il silenzio dei maggiori esponenti della destra attorno a questi fatti. Ricordiamoci che c'è una sequenza, non è solo il fatto delle braccia alzate a Calarenza. L'anno scorso hanno assaltato la sede del maggior sindacato italiano. Però perché non è possibile declassarlo? Qual è il problema? Declassiamo l'atteppismo, declassiamo la criminalità, ma perché lei si preoccupa se sul serio il Presidente, ora lo vedremo, abbiamo le immagini, ieri il Presidente del Senato di nuovo ha rifiutato di dirsi antifascista, ma qual è il problema? Cioè davanti a tutti i problemi del Paese, cosa lei, cosa teme? È un modo di pensare che ha quali implicazioni dal suo punto di vista? Ma noi abbiamo una storia alle spalle negli ultimi decenni, non è che necessariamente dobbiamo andare al fascismo. Io temo, se devo dirla chiaramente, che queste frange, che questi elementi, davanti alla delusione rispetto ai risultati di questo governo, si radicalizzano, si radicalizzano. Questo temo io, perché l'ideologia che anche la Meloni ha propugnato e propugna, viene smentita dai fatti. Questi qua dicono patria e poi spaccano l'Italia in un Paese arcobaleno, con l'autonomia differenziale. Dicono famiglia e poi smontano degli asili nido, ecco, e mettono l'IVA sui prodotti all'infanzia. Dicono che la Fornero è il disastro e poi aggravano la situazione. Cioè, attenzione... Se falliscono toccano a voi. Il problema è che... Però, Bersani, se falliscono tocca a voi o no? Ma questo non è mai detto. Questo non è mai detto. Non si sa mai quello che succede dopo. Io dico che siamo nel paradosso per cui questi si sentono autorizzati a radicalizzarsi, mentre che il governo non ha la forza per isolarli, per dissociarsi. Questo è il punto. Non va sottovalutata questa cosa. Allora, lei dice... L'altra volta che hanno assaltato la CGL, io non sono mica stato tranquillo quel giorno lì, perché, attenzione, noi abbiamo alle spalle una storia trentennale nella quale queste ideologie sono arrivate anche a dei problemi molto seri. E quindi cerchiamo di non prendere sotto gamba questo coso, che almeno la politica... Non sto dicendo, per l'amor di Dio, non è che dico prendili, mettili tutti... Applica la legge serba, certamente. Applica la legge Mancino. Però dico, almeno la politica, il governo, eccetera, dica una parola chiara, no? Adesso c'è il 25 aprile, vogliono dire una parola chiara. Allora, senta, prendiamo degli elementi di un'ideologia pericolosa, che può essere, ad esempio, quella fascistoide. Prendiamo l'elemento dell'agonia, è il tema del giorno. Il tema del giorno, attenti, tu fai un nome, lo sbatti davanti al pubblico ludibrio e le conseguenze sono terribili. Abbiamo l'esempio della signora che si è suicidata, e c'è molta destra che dice, guardate, che è proprio là che si vede invece la nostra cultura garantista. Perché noi stiamo elaborando delle leggi, stiamo elaborando una nuova normativa che impedisca di far finire sui giornali qualcuno da additare. In questo possono avere ragione? No, ma proprio no. Perché è il contrario. Perché se tu, che fra l'altro chi fa avanti queste cose si proclama liberale, ma se tu non hai fiducia, almeno utopisticamente, per l'amor di Dio, con tutti i limiti, i difetti, però che la stampa sia il cane da guardia del potere e che i giornalisti abbiano la capacità e la volontà di raffigurare, di rappresentare le cose, tu lascerai spazio solo ai circuiti diversi, compresa la rete, che è inafferrabile. Se non è uno controllabile raccontare, perché qual è il cartello 13, quali sono i divieti e la stampa che stanno varando, allora sarebbe vietato pubblicare i virgolettati di ordinanza ai custodi a cautelare, verrebbero cancellati alle intercettazioni i nomi dei non indagati, via riferimenti che identificano gli estrani alle indagini. Ora, qual è il problema? Ma che il nome non si fa solo sui giornali, molto spesso si fa dal palco. Abbiamo raccolto Salvini e Meloni, come la pensavano diversamente, sui nemici politici. Guardate il 125. Perché il guru dell'antimafia Roberto Saviano non ci parla e non approfondisce anche questo tema della mafia nigeriana? E che dal suo attico di Manhattan i problemi dell'Italia non si vedono? Se la Fornero non viene a Milano, andiamo noi a casa della Fornero, a San Carlo Canavese. Quello è l'onatorio dove lei giocava da piccola, probabilmente la prendevano appallonata e la prendevano in giro, quindi poi si è incazzata e ha fatto questa riforma. Riprendi il giardino dell'esodato, va che roba, cazzo? C'è una sosia della Boldrini qua sul palco. Non so se l'hanno già esibita prima. Allora, forse non sono loro che diffondono la cultura e l'agonia, ma in qualche misura ne sono interpreti. Ma assolutamente, ma insomma è randello questo qui. Cosa ci aspettiamo? Io però, quella sequela di interventi per limitare la possibilità di circolazione delle notizie, io la collego a un altro fatto, anche più profondo. Cioè, mentre guardiamo queste cose, mettiamo in fila anche un'altra cosa. L'attacco all'autorità anticorruzione, l'attacco alla Corte dei Conti, il sbaracare il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio, alzare la soglia del contante, lasciare, liberalizzare totalmente i subappalti a go-go. Cioè, qui c'è un'idea, si sta creando un habitat per una corruzione. e credo che molte di queste nuove norme, alla fine, mica non sto dicendo singoli casi, ma come mentalità, sia mettere a riparo fondamentalmente i colletti bianchi da questo tipo di situazione. È una cosa che dice, vabbè, ma adesso ci hanno rotto le scatole, i magistrati, le cose, eccetera. Bisogna affidarsi alla serietà, alla cosa dell'impresa. Adesso voi ditemi, se il 90% delle assegnazioni di lavoro avviene senza gara, come hanno deciso di fare... E togli l'abuso d'ufficio. E togli l'abuso d'ufficio, e togli il traffico di influenze, e lasci circolare il contante. Ragazzi, ma cosa possiamo aspettarci? Non siamo in un mondo di santi. Sì, alcuni sono navigatori. Ecco. Tra i santi. Senta, allora riprendiamo quello che dici. Non è tanto il fascismo, è un modo di pensare che si ripercuote in azioni particolari, che magari deludono la gente che a quel punto, io le dicevo, beh, a quel punto si rivolgeranno a voi. Magari no. Magari vanno ancora più a destra. Sta notando che la gara all'interno del centrodestra si gioca a chi va più a radicalizzarsi. La vede la corsa a Vannacci, no? Il generale Vannacci. Subito Salvini ha cercato di prendere. Guardi, ieri cosa ha detto Vannacci sul tema simbolo che lo caratterizza, quello del rapporto con l'omosessualità. Sì, se avessi un figlio di uno... Non avrei nessun problema. Nel limite del possibile, cercherai di orientarlo verso l'eterosessualità. Perché sono convinto che il gene dell'omosessualità, per quanto lo stiamo cercando, non l'abbiamo ancora trovato. Se dovesse vedere dei film o delle trasmissioni dove la stragrande maggioranza degli attori sono omosessuali, probabilmente potrebbe essere influenzato da questi comportamenti. Se invece crescesse in una società dove l'omosessualità è rappresentata secondo la sua effettiva presenza statistica, forse si svilupperebbe in un altro modo. Allora, ci sono due problemi qua, a parte quello che pensa che sono fatti suoi. Dietro un progetto del genere c'è un censimento degli omosessuali per verificarne la statistica e poi una censura della produzione cinematografica per renderla rapportata alla statistica. Allora lui non l'ha pensato questo, non credo che immagini una condizione. Ma ci sono dei modi di pensare che portano necessariamente a delle figure, a delle categorie autoritarie? Ma lei prima ha detto una cosa... Dunque, quella situazione, secondo me, io la vedo così, la leggo così. Allora, la Meloni vuole imporre a poco a poco l'idea della donna solo al comando. Questo apre una questione di registrare i rapporti di forze, perché nella sua compagine questo qui non viene accettato. Allora, cosa sta succedendo? Succede che finché litigano, ma l'Italia non succede niente. Il problema è quando fanno il compromesso e si mettono d'accordo. Perché il compromesso avviene così. Dunque, tu vuoi un premierato, il premier letto al po' che non c'è in nessun posto al mondo? Vabbè, io voglio l'autonomia differenziata. Facciamole tutte e due queste cose qui. Tu copri col silenzio a Calarenzia e io cerco vannacci. Tu vuoi... Ti piace il concordato preventivo? A me piace la flettà. Facciamole tutte e due. A te piacciono tre sanatori, a me piacciono due condoni. Facciamone 17. E' effettivamente, come mi pare stesse dicendo, è effettivamente una simpatica nuova gara olimpica della corsa all'indietro a vedere chi va più forte e di mezzo c'è sto paese qui, spaesato, che non sa ancora bene. Vedrete che si aprirà ancora una fase di incertezza e anche di astensione, temo, che non sa bene. Mentre i temi sociali, economici, industriali, eccetera, vagano... Adesso questo Salvini, che vada per tutto a far... Ma è troppo chiedergli di occuparsi dei treni? E degli orari dei treni? Ma è troppo chiederglielo? Ma non glielo chiede nessuno. Sa chi glielo chiede? Abbiamo trovato un filmato che è veramente strano. Lui si caratterizza, almeno nella sua pratica politica, come il ministro del Nord che darà il ponte allo stretto. Il ministro del Nord che farà una cosa importantissima nel Sud. Abbiamo trovato una riunione di leghisti al Nord in cui c'è un leghista che dice questo. ...dice miliardi per il ponte, il ponte allo stretto di Messina e ve lo dico chiaramente non me ne prendo un cazzo perché non ritengo una cagata pazzesca. Punto. Scusate, io non tolgo e mi venga detto, come prima mi è stato detto che perfumavo una sigaretta, sono andato a prenotare una tante in regione Lombardia per una visita sanitaria, me l'hanno data a maggio-giugno 2024 e poi noi abbiamo il 14 miliardi per fare il ponte di Messina. Quando una mattina le otto su 20 centri di Milano a pagamento, aumentate due volte nell'anno in corso, siamo i bottigliati e la priorità è il ponte sullo stretto di Messina. Bastiamo scherzare. Sa cos'è? Oggi ha seguito in Veneto, c'era una legge in cui Zaia teneva, una legge che implicava questioni morali, quindi aveva detto votate come mi pare, e beh, metà Lega l'ha mollato, Fratelli Italia, Forza Italia, metà Lega hanno mollato Zaia, il più forte in Veneto. La Meloni se li prende tutti, eh? Vabbè, se li... Zaia su questo aveva una posizione civile, assolutamente, e lui interpreta il venetismo in un modo, diciamo, per molti versi, potabile. Il problema è che è venetismo, poi ora è l'autonomia differenziata anche lui. A me le loro beghe, le risolvono come vogliono, ma mi devono rispondere a questa domanda qui. fate il giro del mondo con la testa, guardate tutti gli stati unitari e tutti gli stati federali. In nessuno di questi stati esiste uno stato arcobaleno, cioè dove le componenti regionali o statali interne della federazione, uno ha la scuola, l'altro non ce l'ha, uno prende l'ambiente, l'altro... Ma scusate bene, ma cosa vi siete bevuti? Senta, ora ne parliamo, tra l'altro lei rimane con noi, avrà modo di confrontarsi con persone che non la pensano come lei. Però c'è un fatto, tutto questo, diciamo, ci sono due fatti. Il primo è che qualsiasi sia la crisi, ad esempio il deputato che spara a capodanno, cioè hanno avuto delle crisi, questa classe dirigente è molto pesante, qualsiasi sia la crisi, la Meloni però è diversa. La Meloni si circonda di gente diversa, ma lei non è come gli altri, lei migliora gli altri. Come si spiega questo fatto? E il secondo è che qualsiasi cosa succeda a quel leghista non è che voterà voi, cambierà voto, magari voterà Forza Italia, magari voterà contro Salvini, magari si rivolgerà proprio a Giorgia Meloni, ma non verrà da voi. Vabbè, ma io non glielo chiedo neanche, quello che conosco, è un leghista di vecchia scuola, per l'amor di Dio. Allora, su questo mito della Meloni verrà poco a poco disvelato il fatto che la Meloni fa benissimo con autorevolezza il mestiere che faceva prima, cioè la capa di una posizione, di un partito, capace di fare polemica, capace di fare aggressività e vittimismo, capace di inchiodare l'avversario con una battuta riuscita, riuscita, dopodiché l'arte di governare, no, il governare no, non è il suo mestiere, tanto è vero che uno che governa cerca quelli capaci da mettersi attorno, poi siccome lei è brava, pensa di essere brava, diventeranno fedeli, perché se ti metti solo i fedeli non hanno bisogno di diventare capaci e questa è la situazione di adesso. Però manca la seconda parte, perché non si rivolgono all'alternativa? Le faccio vedere cosa aveva detto la Meloni sulle tasse, guardate, 133, nella conferenza di fine, inizio anno. Io non sono per aumentare le tasse, come lei sa, tra le due le tasse le ho diminuite e quindi se devo lavorare, lavoro prevalentemente sul tema del taglio della spesa, è un lavoro che quest'anno abbiamo fatto, quest'anno noi abbiamo diminuito le tasse tagliando la spesa pubblica. Allora, intanto la parte che hanno diminuito in deficit, ma le faccio vedere il cartello 45, quindi non tagliando le spese ma chiedendo soldi in prestito. Allora, le aziende, tolti benefici fiscali per un miliardo, cedolare affitti brevi da seconda casa, tasse case all'estero, super bonus, revisione catastale e tassa sulla vendita, pannolini, latte in polvere, seggiorini auto, assorbenti, sigarette. Allora, questa, la gente lo sa che non è vero, ma perché non si rivolge a voi? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Certamente adesso, io continuo a dire a chi guarda sempre i sondaggi, è curiosissimo, che di tutti i numeri che vengono fuori, i numerini 29, 18, 18, il più grosso non viene mai guardato, come va, se va su, se va giù, cioè l'astensione dice il non voto, quelli che vanno non vanno, siamo, viaggiamo attorno al 40%, qualche volta è il 38%, qualche volta è il 42%. Allora, non può sfuggirci, e lo dico al centro-sinistra, all'opposizione, non può sfuggirci che c'è nel paese una larghissima fascia, mediamente i centi più deboli, ma anche un pezzo di cento medio. Basta guardare come fanno la rivalutazione delle pensioni, sono andati giù col badile, ecco, da per dirne una sola, gli industriali, gli hanno tolto l'acee, l'unica misura che è utile per gli investimenti in aziende l'hanno tirata via, quindi non c'è solo il no, il salario minimo o cosa, ci sono tante altre cose, che bisogna interpretare però con un gesto politico, perché se no, la credibilità dell'opposizione, finché non diventa progetto credibile, che non c'è bisogno di fare 360 pagine di programma, non è questo. è successo, se ne avete già da quello che fai. No, ma non c'è bisogno, non c'è bisogno, basta dire, noi stiamo lavorando per questo, questo è il nostro obiettivo, ci sono queste tre cose fondamentali, io ce le avrei anche in mente. Però me ne devi dire tre come un titolo, non me le spieghi. No, se me ne spiega, rifà l'errore classico vostro. No, ma non lo spiego, non lo sto lì a spiegarlo. Le tasse scende. Lavoro, sanità, universalismo dei servizi, diritti fondamentali del lavoro, onestà, civiltà collettiva, civiltà, politica. Guardi, lo vede in collegamento c'è Antonio Di Bella, l'hanno visto, perché è successa una cosa importante, che forse il nostro futuro è già chiaro a molti, perché forse non sta succedendo qualcosa di particolarmente diverso dal resto del mondo. Guardi Trump, cosa ha detto? Trump ha vinto in Aiole primarie con una forza che non si era mai vista. Guardi Trump. We're taking in murderers and drug lords. We're taking in people that are very, very sick with diseases that will be spread all over our nation. As soon as I take the oath of office, I'll terminate every open border policy of the Biden administration and begin the largest deportation operation in American history. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the three or four countries that we think about, but all over the world they're coming into our country. I will immediately sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory transgender insanity. Lo sappiamo come va a finire. No, non è che sappiamo come va a finire. Non lo sappiamo. Quindi diamoci una mossa. Antonio Di Bella, benvenuto, benvenuto. Bersani torna tra poco perché si deve confrontare con i nostri ospiti accomodati.